Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Ricostruzione post terremoto e viabilità. Sono questi i due fronti sui quali principalmente sta lavorando l'amministrazione comunale di Valle Castellana. Restituire alla popolazione le abitazioni danneggiate dal sisma e mettere in sicurezza le strade, infatti, rappresentano due priorità per fare in modo di evitare lo spopolamento, un fenomeno purtroppo molto diffuso nei piccoli borghi montani dell'entroterra. E' il sindaco Camillo D'Angelo nel frattempo a fare il punto sulla ricostruzione, lanciando anche un allarme in merito all'assenza sul territorio di infrastrutture per le telecomunicazioni. Su 313 edifici inagibili sono state realizzate 86 opere ultimate, quindi 86 case, 86 mobili sono state ricostruite, la maggior parte sono B, anche qualche danno grave, anche qualche E nel numero, mi sembra che siano circa 10. Comunque la ricostruzione è partita, sta partendo e stiamo ottenendo dei risultati. Quello che assolutamente manca al territorio di Valle Castellana è l'infrastruttura delle telecomunicazioni. Ancora gran parte del territorio è sprovvisto di segnale radiomobile, quindi significa non poter fare sviluppo sia per coloro che resiedono a Valle Castellana e quindi devono per forza comunicare, e sia per coloro che fanno turismo a Valle Castellana e vengono a Valle Castellana come turisti, non possono godere dei benefici che oggi la tecnologia dà e quindi di tutti i servizi che abbiamo grazie alla tecnologia. Il primo cittadino di Valle Castellana appunto ricorda anche quali lavori sono stati svolti in merito alla viabilità e quali sono invece gli interventi ancora da attuare. Negli ultimi anni è stato approvato un piano per il rifacimento della viabilità, sia straordinario per quanto riguarda le frane, sia di pavimentazione. Sono stati asfaltati diversi tratti di strada che attendevano da tempo, ancora ce ne sono molti altri da fare, però siamo sulla strada giusta. Naturalmente il tempo lo fa da padrona, quindi bisogna farlo in fretta, quindi quanto più velocemente possibile.